Maledetti! Maledetti! Comodori, buongiorno! Oggi mi ero svegliato presto, ho detto faccio il bel video su come si farmano gli Ortrus col mio bellissimo crate pieno di shard in solo per farvi vedere come si fa in questa finestra temporale di 24 ore fra la morte e l'esplosione del Titano salgo sull'astrolabio, faccio di Kenshiro, faccio per cambiare nave e al posto di fare swap, basta che col pollice vi spostiate un attimo ho fatto sell ship, confirmation yes, cazzo l'ho venduta ho venduto un crate a MK2 ingegnerizzato fino al midollo nei moduli core e negli airpoint e in tutto, vado a googolare frontiere se si vende una nave è possibile riprenderla come con i moduli di swap? No immaginate quanti santi sono caduti googlando ho scritto apri un ticket per la frontier in effetti ho avuto due volte a che fare con la frontier e hanno un'assistenza fantastica subito hanno risolto le cose non mi ricordo se una di quelle due volte avevo fatto una cazzata del genere perché una volta te la ridanno, due volte no quindi dato che se ho culo e mi ridanno il mio crate super mega ingegnerizzato mi fanno il bulk, cioè mi rimandano a un attimo prima in cui io l'abbia venduto ho detto ora è inutile che gioco se vado a farmare gli Hortrus a parte mi devo ricomprare tutte le cose e rischio di perdere tutto quindi che faccio? faccio outing, vi faccio vedere il mio secondo profilo dell'esistenza di questo profilo lo sanno credo solo Nemo, Sparv e Alfetto credo siano solo loro tre le persone che sanno che esiste questo profilo perché? perché era quando Epic regalava il gioco quindi non c'ho neanche Odyssey c'ho un profilo base e che ho fatto? che con Nemo ci eravamo messi d'accordo ok ti porto con la carrier in un pianeta distantissimo e poi facciamo una lore per i player il ciccio franchippo si chiama così io l'ho portato laggiù è rimasto lì e c'ho un jump di 10 e quindi ho detto vabbè dai non posso andare da nessuna parte e mi faccio esplodere mi sembrava fosse la carrier di Nemo ed era la carrier di Nemo che non c'è più la carrier prima era la carrier no di Alfetto ma di Alfetta 89 qual è il problema? che Alfetta 89 in questo momento ha la sua carrier praticamente nella zona ovest visto non c'è ovest-est insomma in alto a sinistra se aprite la galaxy map a 7500 light tier da Sagittarius e 7500 light tier da Colonia in mezzo alle due praticamente con una nave io ho un sidewinder non ingegnerizzato senza nessun modulo guardian che salta a 10 quindi sono in culo ai lupi però che dire vi faccio intanto le presentazioni vi faccio vedere lo splendido ciccio franchippo eccolo qua il nostro comodoro ciccio franchippo guardate che meraviglia d'uomo che è allora vediamo se ho impostato i tasti sì direi che si merita un bel primo piano bello ciccio come stai? quanto tempo è? t'ha posto? vabbè no dice di no non è tutto a posto chi se ne frega che cosa? io non avevo avevo solo 80.000 di credito e quindi volevo comprare perché quel santo alfetto lo vende il tss cam insomma quello che lancia i probe come si chiama? dai usiamo i termini appropriati la dislessia non mi aiuta si chiama ora l'ho comprato quindi lo vedrete detail surface cam dss avevo detto bene questo non potevo permetterlo perché avevo solo 84.000 e allora sono partito e ho iniziato a mappare le stelle come senza il probes semplicemente col dscanner e col frequency ora dato che voi esploratori saprete già bene che un video l'ho già fatto a riguardo vi faccio comunque vedere che metodo ho usato innanzitutto guardate che meraviglia sto pianeta non ho nulla ma ho il gagliardetto di la seconda posizione in esplorazione perché ciccio franchippo già faceva parte di squadrone a Romano ora appena non siamo più mass locked salto e dato che mi trovo sostanzialmente guardate dove pam 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 in mezzo al nulla non c'è un cazzo qua intorno guarda dove parcheggia Alfetta accidenta lei Alfetta ci manchi sto continuando a zoomare indietro come vedete non c'è ancora una sega di nulla ho visto un buco nero ecco qui se mettete in reality mode ve lo faccio vedere vedete qui si vede il mouse questo è un black hole scoperto probabilmente da nessuno perché non c'è nessuno che viene in questa parte di mondo e eccoci qua qui c'è Sagittarius il colonia è circa qua e la bolla la bolla è qua con un sidewinder che zompa a 10 capite anche voi questa è l'esplorazione hardcore voglio vedere voi con una nave zompa a 10 niente di ingegnerizzato tornare in bolla da qua e io ci provo saluto a parte quello quindi come si fa io faccio vedere da un sistema vergine tanto qua intorno è tutto vergine metto una roba a caso mettiamo questo ah su perfetto e l'ho solo messa in target bisogna fare plot route e ci vado a salvare scuola schiantare sulla stella o il pianeta perché sa che questo è un bellissimo arnlike tutto scoperto da alfetto ve la ricordate la vecchia animazione eh quanto tempo giocatori di lunga durata la nostalgia ok arrivate quindi nella nuova stella fate fuori il scoop così è scoopabile 1D immaginatevi voi la fatica 24 niente proprio ma tanto il serbatoio è piccolissimo quindi è tutto proporzionale quello che c'è da fare quindi senza il surface scanner è questo il discovery scanner honking cosiddetto perché fa honk e una volta fatto quello voi pam decrescete la velocità andate in questo che è l'FSS scanner e vi scansionate i pianeti una volta scansionati i pianeti tornate nella carrier di alfetto in questo caso o da qualunque altra parte a vendere i dati anche senza poter lanciare i probe questi so comunque soldi quindi ora parto dalla frequenza più alta eccolo qua dove è? qui no qui ah money award questo paga un bel po' bene ci viene un altro andiamo uno per uno quanti sono? dieci va bene faccio solo questo e vi faccio vedere quanto si guadagna come e perché innanzitutto nel fare solo una spedizione con cinque salti mi sono già preso un ruolo in esplorazione perché io riballisco anche se lo sto facendo targoidi a go go preso bene e anzi chiedo a tutti quelli dillo squadrone in questo mese se state giocando contribuite alla causa anti-xino aiutateci a sconfiggere i targoidi però come ogni cosa di squadrone ognuno fa quello che gli pare e deve essere giusto così perché siamo squadrone e andiamo a finire di scansionare questo bellissimo sistema ok quindi cos'è che ci porta dei denari se ci sono dei terraformabili cosa che non vedo fammi vedere il copilot che voi vedete io no se mettono biological no system data non me lo dice quanto è bodies forse se clicco qui non me lo dice se può essere cos'è che ci paga di più e cosa di meno da qualche parte lo dovrebbe dire per esperienza so già appunto che questo ammonia world paga parecchio tutti questi altri dipende se c'è qualcosa di terraformabile o meno non me lo dice quanto può valere il copilot secondo me sicuramente sì e sono io che non so dove andare a trovarlo vabbè però dato che lo so vado a come si chiama sta nave la pipparella l'unica nave che possiede ciccio franchippo e niente dato che io lo so che è quello che paga vado a scazionare quello che è su biological vediamo anche perché sto usando non odysse quindi biological non ci sono ok questo allora forse non lo fa comunque entriamo su system andiamo andiamo sul nostro ammonio che porca vacca mi ricordo nulla dovrebbe essere questo atmosfera acqua informazioni informazioni stanno qui high metal con non è terraformabile ma non è terraformabile però ci si può appena visto high metal high metal content world rocky world terrestri e l'ammonia questo sicuramente ci fa pagare un bel po' lo mettiamo in target e andiamo a mapparlo e vediamo poi quanti soldi facciamo 5000 light second diciamo che taglio il video fra poco eccoci che stiamo arrivando togliamo un pilota automatico che altrimenti inizia a circolare bello l'ammonia me lo ricordavo così bellino sapete che a volte mi manca la grafica pre-odissi dei pianeti ne parlava Alfetto diceva che erano più belli prima in effetti porca vacca si mi pare proprio di si ora facciamoci la nostra mappatura con una come si chiama DSS non ingegnerizzato quanto tempo non c'era i due trattini qua dovrebbero esserci tre linette eccole lì le tre linette che qua sopra ah non le vedevo io perché c'è talmente tante stelle qua ora sono sei probes non ingegnerizzato vediamo come ottimizzare perché normalmente farei se vedo i trattini eccoli qua uno qui che dovrebbe essere vedete i tre trattini bianchi a metà praticamente fra il sopra e il sotto fare praticamente un bel rettino al pianeta c'è gli occhi rossi ma sono sobrio sono solo malaticcio e questo ci fa vedere quant'è il raggio del probe non è il massimo poi potete vedere anche dietro provo a lanciarne uno al centro dietro quindi fra i tre trattini è un miss dovrebbe essere circa a metà quindi vediamo dove arriva spero che atterri qui e in caso non c'è l'efficiency amen no sono andato un pochino più a sinistra che quindi essendo dietro allora qui dovrei fare così mettiamo uno qua e sotto direi forse una cosa del genere aspettiamo che atterrino tutti quelli che ho lanciato siamo al 66% forse riesco anche a prendere il bonus 81% ho lanciato 4 ne ho ancora 2 ora proviamo sulla parte sotto dovrebbe bastare così e poi uno centralissimo qua vediamo se prende l'efficiency bonus riesco con i 6 richiesti o se c'è bisogno di un settimo per superare il 90% perfetto 100% anche senza l'ultimo efficiency target bonus ho fatto i soldi quindi cosa fare uscire da qui tornare a questo punto alla carrier di alfetta e vendere i dati e vedrete che sono un bel po' di soldi per uno che non ha niente niente quindi vi ho fatto vedere un pochino come fare esplorazione con un sidewinder che non ha nulla niente di ingegnerizzato e grazie che dire vediamo quanto si fattura e sarà tanto anche se c'è il 25% di trattenuta 12,5 da parte della frontier 12,5 che va al proprietario della carrier in questo caso affetto volentieri come la Roma di Tullio sempre e comunque vediamo dov'è la carrier supercruise assist andiamo la carrier alfetta e quando siamo arrivati lì quanto mi manca viaggiare su un sidewinder poi con un uomo brutto come il ciccio franchipo è particolarmente soddisfacente vediamo se si riesce a inquadrare di viso non proprio ecco vedete però la capigliatura molto simile alla mia del mondo reale vediamo se riesco eccolo lì ciccio guarda in camera è la cosa meravigliosa più vi avvicinate al centro della galassia più stelle ci sono e quindi vedete anche voi il paesaggio meraviglioso quindi a chi non c'è stato consiglio a tutti magari non con un sidewinder di andare a Sagittarius il buco nero che si trova al centro della nostra galassia qui ho visto avete visto quelle pistoline sono appunto il DSS scanner perché per il resto è quasi vergine questo sidewinder la controluce si vede male queste queste due cose sono il DSS appena montato e allora salutiamo un bellissimo ciccio franchipo andiamo a vedere quanto si guadagna poi interrompo il video che è assolutamente un video che non volevo fare completamente inutile ancora più di quelli soliti però spero possa aiutarvi a addormentarvi o come so imparare qualcosa per i nuovi player e stavo pensando oggettivamente di fare da zero visto che questo non c'ha nulla praticamente di soldi a fare un profilo da zero con ciccio franchipo e farvi vedere nel 2025 a questo punto se ancora ci sarò speriamo di sì come partire da zero su Elite magari mi compro Odyssey anche su questo profilo e riparto senza trick senza aiuti esterni senza fare soldi eravate in quei posti lì in modo da guadagnarmi nave per nave pezzo per pezzo e rigodermi tutto quello che è l'inizio del gioco che secondo me è la cosa più bella di tutte uno rischia di rovinarselo se arrivi ti danno subito un miliardo mi compro tutte le navi posso fare tutto è vero che poi devi andare a farmare materiale ingegnerizzare e comunque continuare a giocare per raggiungere i livelli eccelsi ma è bella anche la soddisfazione di dire mi compro unico il cazzo la mia prima nave da combat me lo ricordo sembra veramente un pacchetto di Kleenex Elsa e Dweender base ci siamo? quasi guardate i parcheggi che fa Alfetto d'altronde se non sa lui sull'esplorazione chi meglio di lui Alfetto ci manchi torna fra noi qualche volta guarda la tua carry non ti manca la tua carry Alfetto ti fischiano le orecchie Alfetto o Alfetta che tu sia fluido fluida guardate che bello il paesaggio Pippo quasi un casino e poi comunque questa Winder ha il suo fottutissimo affascino quasi come quello di Ciccio Franchippo no è Pippo Franchippo non è Ciccio Franchippo è Pippo Franchippo scusami Pippo ti ho chiamato Ciccio invece sei Pippo volevo fare che fico che fico e chiamarlo Pippo Franco ma poi per il suo passato nichilista ho deciso di rispettare allora abbiamo Pippo Franchippo che per un dislessico vi assicuro è una gioia totale tra questo che landing pad mer zeg zeg come da eccoci qua landing pad piccolino landing pad piccolino spiagno distruggiamo la nave praticamente no 2% e vedere quanto se lo paga per curiosità ho visto ho scansionato un sistema mi ho fatto il probe con uno c'è un po' di trattenuta universal counter graphic un milione e mezzo taglia di leo congratulations commander you have been promoted to a explorer rank of trailblazer cioè io in praticamente una sessione sono stato promosso a scout a surveyor e a trailblazer perché si guadagna tantissimo e addirittura Felicity Farser mi ha mandato l'invito perché perché ho guadagnato tanto perché prima c'è la promozione a scout io ora sto zitto vi faccio vedere anche le altre due su wayor e con questo chiudo questo splendido entusiasmante video quindi comodori se ci siete oggi cioè ieri per voi che vedete il video ci vediamo alle 20 e 22 per l'esplosione di un nuovo titano altrimenti io sarò con l'Oculus me lo voglio vedere con l'Oculus altrimenti ci vediamo spero presto ciao